quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore anzi il cantastorie 30 anni di vita canzoni viaggi persone storie appunto e ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'auditorio un parco della musica ennio muricone di roma incontro persone amici colleghi che per un motivo per l'altro per me sono state o sono importanti io sono daniele silvestri e questa è le cose che abbiamo in comune un video podcast targato fandango live signore e signori andrea satta ciao andrea ciao daniele che bel clima aspetta che questa è una cosa ufficiale ecco perché inizia una chiacchierata che anche un podcast anche un video podcast anzi entrambe le cose peraltro già online ma questo è che ha un titolo geniale le cose guarda aspetta che mi giro le cose che è sì veramente ma c'è anche una sigla siamo qua per questo è una sigla di un certo livello senti sigla fa cagare eh ramò mi spaventa sempre un po' quando suona la tromba devo dirti anche a me da sempre vabbè però è una scusa per fare una chiacchiera che non si fa così spesso in un concerto e invece questo mestiere è fatto anche un sacco di chiacchiera del conoscersi e noi ci siamo conosciuti un bel po' di tempo fa in realtà abbiamo degli inizi anche abbastanza abbastanza vicini appena precedente comunque signori andrea satta devo parlare un po' io perché non è una persona comune da tanti punti di vista conoscerlo significa entrare in un mondo per quanto mi riguarda bellissimo prima di tutto è forse non so se prima di tutto le metterei tre quattro cose una fianca all'altra ma soprattutto è un pediatra un pediatra d'assalto vorrei dire giusto non so se definirti ma saltano e poi magari ne parliamo pure un po' ed è anche il cantante di una formazione a me molto cara che si chiamano i Ted de Bois questa formazione forse è già anche la prima cosa che abbiamo in comune visto che non solo perché ci conosciamo da da quando avete iniziato ma perché che vuol dire Ted de Bois tra le varie cose ma anche un po' ribelli un po' in realtà vuol dire test di legno insomma quelli che non cambiano parere facilmente perché qualcuno glielo impone sì ma anche testardo testardi alla fine tu l'hai fatto a testardo non fate c'è anche chi qualcuno qua che si chiama così praticamente ormai una famiglia diciamo ma adesso non entriamo nelle cose troppo personali di cose in comune però ce ne sono veramente tanti questi sono i Ted de Bois e sono Luca Angelo Carlo e Andrea tre musicisti straordinari è un poeta pazzo che è Andrea io la prima domanda che ti faccio in realtà la so già la risposta però te la voglio sentire dire lo stesso è conciliabile il mestiere di pediatra e quello di poeta e cantante musicista daniele se avessi fatto il radiologo non so una cosa così molto tecnica forse no ma fare il pediatra significa rinnovarsi ogni giorno perché i bambini intanto sono artisti bambini hanno la ricerca nella loro dimensione l'arte ricerca e i bambini cercano perché perché hanno bisogno di avvicinarsi all'esperienza partono dall'esperienza per loro un temperino non è un oggetto che ha una funzione è una qualcosa da esplorare ci avete fatto caso date un oggetto a un bambino lui lo analizzerà nelle caratteristiche sarà presso le curve piccoline della plastica vede il rumore che fa col dito tutte cose che noi se noi le facessimo verremo ricoverati invece loro lo fanno perché sono nella fase di esplorazione se voi per esempio i bambini tanto sono vicini alla fase dell'esperienza che se ti dico come fa il verso del cane tutti quanti dite bau invece il cane in romania fa ham ham perché è una convenzione che faccia bau non fa bau il cane come non fa rohar il camion come nessuno fa gaspe quando si spaventa il cane in romania fa ham ham ma non fa ham ham non fa bau il cane il cane fa il verso del cane se voi dite a un bambino di tre anni come fa il cane a meno che il padre e il madre non hanno inculcato che faccia bau ripete il suono del cane perché nella fase dell'esplorazione dell'esperienza è la ricerca la ricerca è l'arte ci sono tre categorie gli artisti i bambini e i matti queste tre categorie sono quelle dove dobbiamo mantenere dentro di noi e tu fai parte di tutte tre credo sono d'accordo il fatto che tu sappia come si dice cane in rumeno ha una spiegazione per caso nel senso che nel suo ambulatorio dove sono stato perché anche mio figlio piccolo è stato in cura l'andrea che è un pediatra come pochi ma è un pediatra come pochi anche perché nel suo ambulatorio ci sono storie e provenienze che arrivano veramente da ogni parte del mondo ci sono 30 paesi del mondo diversi e da una quindicina d'anni le mamme vengono a raccontare come si addormentano da piccolo e qui una volta al mese noi facciamo questo incontro le mamme vengono e successe che una mamma del marocco lo posso dire un minuto una mamma del marocco mi bussola la porta dell'ambulatorio l'ambulatorio era finita era un lunedì quel lunedì di novembre pioveva vi ricordate che a novembre pioveva c'è stato un periodo che pioveva e praticamente io gli apro la porta lei entra ero stanchissimo posso dirti dimmi andrea ma ascolti un attimo certo dimmi sono otto anni che sto qui e questi otto anni non mi sono fatta neanche un'amica nuova soltanto tu mi fai non perché quando devo venire il bambino aveva dei problemi cardiologici poi tutti risolti devo controllarlo ogni tanto e scambio qualche parola qui in sala d'aspetto dico madonna la mamma se ne va l'abbraccio mi abbraccia si commuove mi commuovo ma andiamo via dico passo per uno con il tanto qualche idea ce l'ha qualche idea mi deve venire insomma giorno dopo metto un cartello in sala d'aspetto venite a raccontare care mamme come va addormentavate la piccola a casa vostra io se fossi stato se fossi stato in pakistan e un pediatra con il look da pakistano come io ce l'ho ben o male in qualche modo da italiano questo è il mio cappello che vedete lo stesso che metto in ambulatorio vorrei sottolineare che sia un il look da italiano questa è un'idea tua comunque comunque se io fossi andato là e un pediatra del pakistan mi avessi detto a me migrato vieni a raccontare come ti addormentavi da piccolo nella tua lingua e nell'urdu che conosci e tu hai detto senti questo no non voglio andare da questo infatti eravamo lì mia sorella aveva comprato le patatine le pop corn la fanta la coca cola tutta roba che fa no un due tre malissimo prego un due tre ecco ma lei l'aveva comprata che stiamo facendo ottima pubblicità esatto questo verrà cancellato no no ci darò un sacco di soldi per dire che fa malissimo no no fa benissimo ma io sono felice d'accordo prego va a finire che non c'era nessuno era giusto maria abbiamo sbagliato mia sorella fa la segretaria nel mio ambulatorio dopo un po' però dalla finestrella della nostra nostra ambulatoria che è sotto un gran palazzo molto alto vediamo passare una mamma col couscous una con i biscotti una del belgio che faceva poi abbiamo capito che era una che si divertiva a fare i biscotti una calabrese con la sua pressata e da lì abbiamo capito che avevamo vinto ed è iniziata questa bellissima cosa che una volta è denata una comunità un'associazione culturale mamme narranti io ho visto mamme c'erano mamme che non sapevano come andare a prendere il figlio a scuola perché l'altro c'ha la febbre non conosceva nessuno e quindi non potevano uscire oppure che i pannolini dall'altra parte della strada nella zona dove lavoro io tutta tangenziali non ci sono le relazioni non c'è più quartiere non c'è più questo non c'è più comunità questa dimensione si è totalmente disgregata anzi lì non c'è mai stata è piovuta come un lancio di calcinaccio che è arrivato un po dove poteva arrivare e questo è un lavoro che nel mio osservatorio privilegiato diciamo come collocazione perché un pediatra è nella gente tu non scegli i tuoi bambini i tuoi bambini scelgono te i tuoi genitori i tuoi bambini quindi tu tagli la società a metà e sei nel mondo e puoi fare delle cose come per esempio dire che la guerra è il male soprattutto per i bambini e questo video che avete visto che daniele mi ha commosso che l'ha proposto e l'avvoltoio di liberoveci e calvino liberoveci l'abbiamo perso adesso calvino e calvino che ha scritto il testo del canta cronache l'abbiamo registrato in ambulatorio e i bambini che cantano sono nel mio ambulatorio e sono i bambini delle mie mamme quindi è stata questa esperienza è stata vissuta proprio là ed è fra l'altro bellissima non hai citato giorgio che comunque è la persona con cui stai cominciando hai cominciato a lavorare da un po di tempo ma ci arriviamo giorgio maria condensi perché anche questo arrangiamento è splendido è davvero un grande artista volevo solo dire perché suona pubblicità ma non lo è che da questa esperienza che sta raccontando andrea sono usciti anche dei libri lo dico perché se ci sono delle mamme o dei papà in sala che hanno bambini in età di favole e nemmeno troppo piccoli secondo me vanno bene pure per quelli un po più grandini ci sono questi adesso sono due quelli usciti o sei al terzo sono usciti tre mamma quante storie è raccontato c'è l'esperienza raccontata con i disegni di fabio magnassutti e tutte le favole originale con i segni di stai lo dico da papà perché io con i miei figli l'ho usato tanto sono bellissimi sono storie alcune davvero splendide soprattutto quando riconosci degli elementi che fanno parte ovviamente anche dell'immaginario nostro ma vissuti e raccontati secondo culture ed esperienze completamente diverse. Vabbè ci sono 102 cenerentole nel mondo così oppure una volta viene una mamma inambula io non sono bravo a risolvere gli indovinelli anche quando me li spiegano me li dimentico viene questa mamma della nigeria che dice allora tu siccome tu pediatra sicuramente perché parla un po così come gli indiani si utero tu pediatra sicuramente sai risolvere tutti gli indovinelli anche se non faccio il pediatra sono risolveri indovinelli infatti lo dice c'era una volta un pescatore una un leone e un casco di banane e un leone un casco di banane un pescatore e una gazzella che il pescatore con la zarte doveva attraversare il fiume ma questa la conosco se lo so questa qua allora la puoi risolvere no non la posso risolvere dall'altra parte tutti portare tutti gli animali ma questa non la sappiamo è fatta col cavolo con la capra e il lupo la sapete adesso non vorrei aprire qua che la serata diventa lunga come come si risolve tanto non me la ricordo in precedenza peraltro non me la ricordo però ragazzi se ci pensate quale nave di di negrieri di schiavi come ha fatto questa favola ad essere per qual è la declinazione primaria il leone la gazzella è il casco di banane o il cavolo il lupo e la capra no perché la dinamica è la stessa il problema è lo stesso bisogna non lasciare la capra con con il lupo il leone con la gazzella però alla fine sono animali diversi gli animali di ogni territorio quindi c'è stato un qualcosa che noi non sappiamo e che ha creato questo scambio il dolore la fatica l'invasione la schiavitù chissà però la mamma la conosceva gli archetipi no ci sono alcune storie che sono non lo sappiamo benissimo perché ma probabilmente hanno un'origine realtà comune e qui potremmo andare a finire a parlare di cose fin troppo complicate invece c'è talmente tanto da dire e non potremo però insomma questo signore e anche i suoi sodali si sono inventati un sacco di cose cioè non nella vita di andrea io lo conosco da tanti anni lo frequento molto più come amico forse come artista però non si è mai fermato ha sempre avuto delle idee assurde una delle più incredibili luca si può mandare la foto del quella cosina che si chiama palco a pedali e vabbè chi sente il podcast se lo deve solo immaginare io non so se sbaglio ma è stato il primo palco al mondo forse si sia veramente alimentato da di queste dimensioni sicuramente l'unico il pubblico sale in baci in bicicletta e alimenta tutto il pianto l'illuminazione non esiste nessun tipo di poi in questo anche ragnero il nostro amico ragnero terribili credo che c'entri qualcosa no certo è lì che lo fa funzionare e sono tanti anni quando quando hai fatto la prima volta nel 2010 abbiamo debuttato a bari e poi abbiamo sempre fatto funzionare anche adesso lo facciamo all'ambasciata tedesca per vedere un film questa volta fra qualche giorno e l'ha progettato un ingegnere che si chiama gino sebastianelli che adesso è diventato un dirigente di una grande azienda italiana e io so che nel colloquio che ho fatto quando hanno letto ah ma lei ha progettato il palco a pedali è stata una cosa che questo grande burocrati dove assumerlo gli ha fatto effetto mi spieghi che cos'è e gino gli ha spiegato il palco a pedali gli è sembrato una cosa bizzarra non escludo che questo abbia contribuito alla sua assunzione potarsi oppure allora un altro paio di cose solo perché poi facciamo anche qualcosa altro insieme vorrei farvi vedere una foto luca facciate quella foto in cui indosso un cappotto questo cappotto non so se si capisce dalla mia faccia abbastanza brutta la sembra quella di un pastore sardo proprio e la mia pure però in qualche modo però è anche la faccia di uno commosso perché perché quel cappotto ha una storia e la storia è talmente bella ovviamente non ti posso chiedere di raccontarla tutta però un accenno lo puoi lo puoi dare sì perché è una storia vera ma è diventata un meraviglioso spettacolo che si chiama la fisarmonica verde è una storia veramente fantastica eh mio papà io sono più piccolo di una grande famiglia di sorelle mio papà è stato prigioniero in un campo di concentramento nazista è tornato con la complicità della fisarmonica che sapeva suonare dopo anni di tortura di di umiliazioni pesando 40 chili assistendo al rogo dei suoi compagni di baracca 40 ragazzi morti tutte cose che no tutte cose no ma questa cosa in particolare l'ho scoperta in una lettera denuncia dentro un libro che non avevo mai letto dopo la morte di papà così dopo la sua morte io sono andato in sardegna a cercare tracce e sono tornato trovando poi nella libreria di mio padre questo libro e devo dire che mio padre era un grande raccontatore ma forse era un grande raccontatore di silenzi lui era apparteneva a quella generazione di sardi gallorese papà che fanno del era ieratico papà era era un uomo che sapeva tenerti accanto tu sapevi che sarebbe successo qualcosa anche quando non accadeva e a un certo punto lui si metteva veramente a raccontare quando ero bambino raccontato con più si è fatto grande meno ha avuto voglia di farlo meno ha avuto voglia di ripasseggiare dentro quel dolore e uscendo dal campo di concentramento quando i tedeschi se ne vanno dopo aver fatto questo errore del rogo uccidendo i suoi compagni lui si salvò perché lo mandarono a cavare le patate per turno nella collina davanti al campo il caso lo ha salvato ma il caso l'ha condannato a guardare i suoi amici che bruciavano e riconoscerne le voci da lontano in una in una baracca in un capannone trova questo cappotto che daniele indossa in un viaggio anche quello un po che non possiamo raccontare ma dietro marcia sul roma esatto questo è il cappotto di mio padre che ha portato a cavolcioni delle spingenti del treno merci che lo riconduce da dresda a roma insieme a una fisarmonica che gli ha consentito di andare dall'altra parte dalla nella zona della dalla zona russa la zona occidentale da la finalmente su merci imbarcarsi e arrivare e arrivare qua è una storia incredibile se vi capiterà di sentirla raccontare da lui in uno spettacolo che ha scritto su questa meravigliosa storia vi consiglio di farlo per una volta faccio veramente quasi una pubblicità però mi fai vedere pure la copertina dopo tantissimi anni di Ted de Bois che peraltro continuano a esistere per la prima volta la sua veneranda età che non diremo il signor andrea satta ha fatto un disco solista e anche questo ve lo consiglio più o meno come mamma quante storie libro di favole perché è splendido e lì c'entra tanto giorgio che citavo prima nel nel modo non negli arrangiamenti nei suoni però c'entra anche credo la tua voglia arrivata perché appunto il signore è un bambino un eterno bambino e poi tra quelle cose ce n'è una che abbiamo condiviso ci ho messo un po' della mia voce anzi adesso quando finiamo ora ti saluto cominciamo a dargli un'occhiata perché prima o poi la faremo insieme dal vivo eh mi piacerebbe molto sì signore e signori andrea satta sigla e dopo questa sigla con la trumba sempre grazie a tutti grazie a tutti